E' un ottimo veicolo, sono rimasto molto soddisfatto E' un altro modo di guidare, decisamente più bello, più rilassante L'auto non pensavo, ma in salita ha molta ripresa Il motore è buono E' molto silenziosa, questo è molto piacevole guidando E possiamo parlare anche del risparmio energetico globale L'utilizzo dell'elettricità al posto della benzina Proprio per l'impatto ecologico, è una cosa molto bella La guida è molto molto fluida E' addirittura migliore come guida rispetto a un'auto tradizionale L'avrei acquistata sicuramente Se ci fossero state delle condizioni diverse Se vedi autonomia, se avessi avuto più autonomia ci poteva stare E anche a livello di costi siamo ancora forse un pochino alti Nel senso che è abbastanza costoso ancora La proposta di averlo due giorni era una cosa decisamente migliore Rispetto a qualunque prova che ti fanno fare in giro di solo mezz'ora Per capire proprio tutto il funzionamento Mi sembra una cosa molto utile perché dà la possibilità di provare un nuovo mezzo E un'ultima idea Un saluto a tutti e speriamo che in breve tempo giriamo tutti con auto elettriche In modo da salvaguardare ciò che ci circonda